Sindaco di Primione, giorni scorsi, ha parlato del suo futuro, ha detto probabilmente lascerò la politica, non mi ricandiderò comunque, conferma. Sì, sì, è vero, non mi ricandiderò in comune, non mi candiderò ovviamente come sindaco perché lo impedisce la legge, ma anche perché ritengo giusto che dopo un doppio mandato si debba lasciare spazio ad altri. Sono orgoglioso di poter dire che oggi, anche oggi, proprio la città vede e tocca con mano le tante, tantissime opere che abbiamo fatto finanziare e che verranno realizzate nei prossimi anni e poi ho detto anche che di politica non è necessario vivere, no? Allora chi come me ha la possibilità anche di avere un mestiere suo, proprio, io faccio l'avvocato, continuo a fare l'avvocato e se in politica ci sarà ancora uno spazio per me e quello spazio mi sarà gradito, nulla toglie che io continui. Ma ove ciò non fosse, io meno degli altri mi posso stappare i capelli, ma credo che nessuno si distrapperà. Ma è in crisi il rapporto tra Umberto Di Prima e Forza Italia? Non è in crisi il rapporto tra Umberto Di Prima e Forza Italia, è Forza Italia che ha bisogno di avere una postura un po' più eretta e evitare di chinarsi a destra e a sinistra. È necessario avere la consapevolezza che quando si ricopre un ruolo istituzionale il primo elemento che deve governarci è il senso di responsabilità e poi ci possono essere anche le rivendicazioni di parte, ma senza responsabilità non si costruisce nulla. Lei potrebbe lasciare Forza Italia? Io non devo lasciare nessuno in questo momento, non è in discussione questa cosa, ma nella vita non si può mai dire. Grazie. 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 Grazie.